La provincia di Fermo ha concluso la campagna Differenziamoci con la presentazione del fumetto intitolato Una storia senza di noi di Michael e Mirko che parla appunto delle tematiche ambientaliste soprattutto di un racconto distopico di una terra che non è più abitata dagli esseri umani ma soltanto dagli animali. È un monito forte fatto di poche parole e tante immagini che dice ai giovanissimi attenti rispettiamo la terra altrimenti questo potrebbe accadere. L'arte, la narrazione ti permette di andare a raccontare delle cose che non sono nel tuo quotidiano anche per fortuna però permettono al cervello di fare un tipo di viaggio. Questo speriamo sia un viaggio che non si farà mai, quello di un mondo che non c'è, che non ci sarà più e speriamo quindi che rimanga un fumetto distopico e quindi in qualche modo di fantascienza piuttosto che un fumetto realistico, un fumetto di realtà. Una mattinata di lavoro in cui i ragazzi, oltre 800 delle scuole medie di tutta la provincia, collegati a distanza, hanno potuto interagire con la presidente, con il consigliere Pompozzi ma soprattutto con l'autore che ha spiegato loro come nasce un fumetto, perché è un linguaggio semplice ma immediato e come è riuscito nella sua vita a fare della propria arte un mestiere. È un fumetto fatto tutto a vignette grandi, o splash page che vengono chiamate, quindi vignette che riempiono tutta la pagina, serviva a condensare in poco spazio tanto. Il trucco che ho usato io è quello di poter allargare le vignette fondelle insieme e raccontare una scena che è forse unica per pagina ma che è molto più vasta della somma di tantissime vignette. La campagna Differenziamoci che riguarda i rifiuti per quanto concerne la provincia di Fermo si associa ad un'educazione scolastica che deve portare le nuove generazioni in un'altra direzione. Questi progetti volti a far conoscere, a sensibilizzare tutti i ragazzi e le ragazze alunni di oggi, già cittadini e ancora più cittadini tra qualche anno che saranno i nostri migliori testimonial per far sì che questa crescita qualitativa nelle politiche ambientali della provincia cresca e cresca magari insieme a loro. La distribuzione a tutte le scuole e medie della provincia in concomitanza con la giornata mondiale della terra vuole essere un input per tutte le insegnanti per poter trattare questa tematica ambientale e sensibilizzare sempre di più le nuove generazioni. Un progetto che appunto è stato volto a fornire uno strumento in più alle docenti per sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche ambientali. La scelta di Michael come è avvenuta? C'è stato un incontro fortunato tra sensibilità e attenzione dell'autore con la sua caratteristica di comunicatore nei confronti delle generazioni più giovani.